Un decalogo per la creatività di Federico Faggin Un computer non ha vera creatività La creatività del computer proviene dalla creatività dei suoi programmatori. Non possiamo attribuire al computer capacità che non possiede. Il computer non esiste come ente cosciente con libero arbitrio, come siamo noi. Lasciato a se stesso, il computer è una nave senza timone. Anche nel caso nostro, la creatività non proviene dal nostro corpo, ma dalla coscienza e dal libero arbitrio che esistono in una realtà più vasta dell'organismo fisico.